ragazze buongiorno quant'è che non ci vediamo da venerdì che non faccio video allora ragazze io sono stata assente perché mi ha beccato l'influenza è un'influenza che penso di avere preso in palestra perché ci sono state appunto due persone che l'hanno avuto e quindi me la sono beccata mi è cominciato venerdì pomeriggio con con i sintomi di dolori alle spalle e niente poi la notte mi ricordo che ho avuto brividi quindi avevo un po di febbre il sabato mattina sembrava che un tir mi fosse passato sopra tutta dolori la febbre mi è arrivata quasi a 38 38 forse meno due e quindi i dolori ieri pure ieri la febbre si è mantenuta più bassa 37 6 poi 37 3 ma i dolori persistevano un po meno del sabato del giorno prima ma c'erano sempre stamattina ero sfebbrata e in ogni caso la cosa diciamo che a me fa guarire andarmi a infilare sotto la doccia l'avrei fatto pure ieri ma mio marito me l'ha proibito no lascia stare qua la ma io secondo me l'acqua non ha ucciso mai nessuno quindi io mi sarei andata a fare la doccia anche ieri ma mio marito me l'ha proibito categoricamente stamattina ragazze mi sono andata a infilare sotto la doccia voi sapete il mio problema quindi il collo sudato la nuca sudata i capelli questo e quello e quindi mi sono andata a fare la doccia mi sono messa appunto tutte le cose belle pulite fresche ora mi sono truccato un poco appunto per rendermi più presentabile e adesso vi faccio vedere che mi sono fatta un po di cose a casa ragazze perché è un attimo che stacco perché non riesco così oppure si vediamo no niente devo staccare perché devo girare la telecamera allora raga vi dicevo che mi sono fatta un po di cose perché mio marito soprannominato lo chef l'autista meteorologo sapete è bravo bravissima a cucinare bravissima a fare la spesa è bravo a trovarmi qualsiasi cosa di cui io abbia bisogno però per quello che è la casa lui si limita a fare la spesa appunto a cucinare fa i piatti però ragazze diciamo diciamo tutto un po a modo suo e quindi stamattina mi sono fatta le cose io ho fatto il letto bello sistemato ho tolto tutto quello che c'era da togliere anzi vi faccio vedere qui questi due sacchetti e più tardi vi faccio un video all perché venerdì ho comprato due cosine ora ha settato la cameretta anzi questo cuscino va qui quindi lo rimetto al suo posto ho fatto già una lavatrice di bianco e ora ne devo fare una di tutte cose nere cose della palestra naturalmente oggi la palestra la salto perché non mi sento ancora di andare a fare chissà che cosa ho fatto il bagno devo passare lo straccio ho spazzato tutta la casa ho pulito la cucina perché era un po disastrata qua ci sono i detersivi adesso li tolgo e quindi mi sento un pochino meglio sapete quando la casa è pulita sistemata insomma ci sentiamo meglio sabato notte c'è stata una specie di bufera qui a parte che piove da venerdì è solo stamattina ho potuto stendere queste quattro cose dopo che erano da due giorni nella bacinella vi stavo dicendo che sabato notte mi è caduto il ficus enorme che ho qui sulla destra del balcone non esco perché c'è freddo per il vento si è abbattuto proprio a terra comunque l'abbiamo ripreso qui abbiamo il calendario vedete ferma giorno 24 giorno 24 era venerdì quindi abbiamo 25 26 27 oggi dovremmo averne allora quindi 27 ok oggi 27 niente ragazze mi sento vi ripeto mi sento meglio mi sento meglio pure perché mi sono lavata e ho sistemato casa ora mi vado a passare il mocio in camera quindi in bagno si camera da letto comunque non è molto sbagliato perché poi la camera da letto avrei dovuto pulirla sabato invece non ce l'ho fatta allora poi vi volevo dire che l'influenza mi ha lasciato un ricordino vediamo come faccio a farvelo vedere qui allora ragazze mi sta avvenendo l'herpes io ogni volta che ho il raffreddore ho una febbre mi becco subito l'herpes e quindi mi sta avvenendo è il posto è qui il naso poi invece una cosa che ho notato stamattina mi sono un pochino truccata e mi è venuta una pelle forse perché appunto era pulita da un paio di giorni non la truccavo una pelle senza mettere nel fondotinta né niente di porcellana voi lo sapete quando la pelle più pulita quando si lascia un po respirare che so dovete io di solito faccio così quando ho un evento un matrimonio una cosa sto un giorno senza truccarmi è il trucco mi viene decisamente meglio ora senza volerlo giustamente perché sabato e domenica appunto avuto la febbre sono stata senza trucco e stamattina ho visto che con un po di correttore per gli occhiai un po di blush mi è venuta una pelle bellissima ok ragazzi allora mi passo il mocio qua e poi ci facciamo altre quattro chiacchiere ragazzi allora volevo fare altre due chiacchiere con voi vi sa vi allora vi volevo dire che sabato dovevo farmi il colore invece saltato vi faccio vedere qui i capelli bianchi quindi mi è saltato il colore poi volevo dirvi pure che in questi giorni appunto di febbre ho mangiato pochissimo mi vedete scura ragazze io vedo scura questa luce non mi soddisfa per niente comunque ragazzi intanto così appunto vi stavo dicendo che ho mangiato pochissimo pastina ho mangiato meno frutta proprio perché non avevo fame ho mangiato pochissimo e bene ragazze non ho perso un etto avrei preso la bilancia l'avrei schiantata contro il muro perché veramente mangiare pochissimo ho detto sarò scesa magari un altro chilo invece niente non ho perso un etto poi che cosa dirvi ragazzi appunto mi è saltato il colore poi tra l'altro deciso che vediamo questa settimana se mi riesce perché devo chiamare e prendere appuntamento devo andare dal parrucchiere ragazze perché i capelli sono fatti troppo lunghi e poi tra l'altro io non ho dei bellissimi capelli sapete i miei capelli sono un po' crespi e quindi li voglio accorciare un poco che so magari un tanto così anche da sopra insomma voglio darci un'aggiustata poi un'altra cosa che ho pensato che non c'entra niente con tutto il resto però ve lo dico voglio comprare voglio andare da maison du monde oppure andare in un negozio di articoli per cani gatti e io tra l'altro ne ho uno molto grande vicino casa mia per comprare a maia le due ciotole io vedo di solito questo sostegno molto spesso in ferro battuto sono molto carine c'è appunto questo sostegno che poi ci sono di solito due ciotole in ceramica una per l'acqua e una per il mangiare io onestamente siccome per l'acqua ho un'altra ciotolina voglio fare una ciotola per i croccantini e una ciotola per l'umido e quindi è molto probabile che io devo comprare e niente ragazze poi che cosa dirvi niente più tardi allora vi faccio questo video haul di queste quattro cosine che ho comprato e come al solito noi ci vediamo domani mattina per i soliti vlog di pulizie un bacio